Il 20esimo, faccio la evoluzione a parte di Giordano, la sfera però non ne esce, è un giorno che è stato buono, in situazione di ordine, ma è tanto buono, è stata buona, è stata ora da l'esplosione, è venuta bene, è venuta bene, è venuta bene, è venuta bene, è iniziata, è venuta bene, è venuta bene, è venuta bene, è venuta bene, è venuta Grazie.